Buongiorno, ben trovati con la rassegna stampa di Molise TV lunedì 2 dicembre. Andiamo a vedere come titolano le pagine locali, iniziamo dal quotidiano del Molise. Apertura dedicata alla cronaca e al super ciclone che si abbatte sul Molise, flagellata la costa, la situazione più critica, si registra a Campomarino dove i soccorsi hanno tratto in salvo una famiglia con una bimba di due anni e poi chiuse le principali vie di comunicazione, campi e case allagate, un anziano di Montenero trasportato in ospedale. Ancora a Campobasso non ce l'ha fatta il 72enne coinvolto nell'incidente a Taverna del Cortile. E poi la politica PD primaria è come un ring, leva sfiducia a frattura, serve una verifica politica, dice. E ancora Mastella che aderisce a Forza Italia e Vincenzo Niro, il presidente del Consiglio, che dice vado avanti da solo. Le notizie di sport, la Serie D, l'Isernia passeggia sui resti del Boiano, non si gioca il derby del Cannarsa. Panico sbotta a fine gara, non vede un euro da oltre un anno, ora servono i fatti, dice. La promozione dell'FC Molise, Armanetti si dimette a sfinete, finisce in rissa. L'Eccellenza, tutte rinviate le partite di ieri e poi ancora Volei B2, Europea 92 sconfitta in casa del Cutrofiano. Andiamo ora a vedere le prime pagine interne del quotidiano del Molise, dedicate alla politica e all'attualità. Croazia-Molise, legame più forte all'arriva, il presidente Iosipovic. Giovedì farà tappa ad Acquaviva, San Felice e Montemitro. Così della politica, il Partito Democratico all'attacco ai vertici. Avevamo chiesto l'abolizione dell'articolo 7 già dalla scorsa estate. Gli indignati ribattono mentre aspettiamo di sapere se verrà abolito il fondo per i portaborse. La GAM chiude. Operai forestali disperati, senza stipendio e precari da tre anni, dicono. Ancora la cultura molisana vince a Roma, chiude i battenti, la Kermess nel quartiere La Garbatella. Scuola, la FLC-CGL incalza il governo. Bisogna restituirle il ruolo che merita una delegazione intanto alla manifestazione nella capitale. PD, le primarie che in Molise diventano un ring. Danilo, leva, boccia la candidatura di Paolo Frattura. È stata inopportuna. Poi chiede al presidente una verifica politica in consiglio. E attacca Di Pietro. Le sue ingerenze sono al di fuori di ogni logica. fa sapere leva. E poi dopo l'Italia dei valori anche il partito comunista di Salvatore Ciocca sta con i renziani. Soffia un vento nuovo. Giovani agguerriti, i cuperliani. La rottamazione non si predica solo. E poi Mastella, appunto, che abbraccia Forza Italia. Si apre il Casudeur. Niro dice vado avanti per la mia strada. E poi ieri la giornata mondiale contro l'AIDS. Sottoporsi al test non costa nulla. E si evita il propagare del contagio. Bene, dal quotidiano del Molise ci spostiamo alla testata online di Informa Molise, del settimanale del Molise, per vedere le notizie in primo piano. Vediamo. In apertura anche qui la cronaca. Bomba d'acqua a termoli. Chiuse le statali. Attivate un centro operativo comunale. E poi le notizie della domenica sportiva per il Rosso Blu. Una vittoria sofferta, ma meritata, che vincono per 3-2 contro il Vairano. Ancora tutti i risultati dei campionati di serie di eccellenza e promozione. Poi frattura che ha presidiato l'Assemblea della GAM. Ripartiremo. Non si chiude. Infine, la CGL Molise, che denuncia il ritardo dell'intervento sul fenomeno malavitoso dell'interramento dei rifiuti tossici. Bene, da Informa Molise andiamo ora a vedere la prima pagina di primo piano Molise. Anche qui la cronaca in primo piano. Bomba d'acqua. Basso Molise a rischio. Viabilità nel caos. Chiuse per l'aggregamento. Le statali 16-87. Tratte in salvo due famiglie a Marinelle a Campomarino. Intanto a termoli il sindaco. Ha attivato il centro operativo comunale. Le notizie dal mondo della politica. Le primarie del PD spaccano la maggioranza in regione. Leva avverte frattura. Nulla sarà come prima. Ma poi la crisi, la vertenza GAM, gli operai in presidio permanente. Intanto per diarremoto ha aperto il concordato. Da Campobasso lo schianto all'ingresso della città muore dopo 20 giorni di agonia. Il 72enne che finì con la panda contro il furgone. Le notizie della domenica sportiva. Serie di liserne afficci passeggia sulle macerie del Boiano Biancorossi. In dieci è con Di Conza. In panchina i pentri vincono 8 a 0. L'ex Panico ne segna 4. Termoli Agnone. Terreno di gioco allagato. Salta il derby dello stadio Cannarse. Poi ancora eccellenza. Rinviate le uniche due gare rimaste nel programma. La promozione. Molise cambio in panchina. 7 gol. Riccia risale. Le notizie dalla prima categoria. Pesche Ielsi a suon di reti Ripalimosani resta in vetta. La seconda categoria. Porto Cannone in paradiso. Tre archi al comando. Calcio giovanile. San Leucio senza freni. San Pietro. Sette bellezze. Ancora la palla Canestro. La Sardella fa cadere il record dell'Agropoli. Infine l'Abruzzo. Il Cupello trova il pari allo scadere con la Vastese. Andiamo a vedere anche qui le prime pagine interne di primo piano Molise. La politica primaria e PD leva alza il tiro in regione nulla come prima. Dice il segretario contro l'ingerenza dell'Italia dei Valori e i forzisti in maggioranza. Frattura mette ordine. Alla prima della squadra di Cuperlo avvia la crociata. In gioco la storia del centro-sinistra. Tutti pazzi per Renzi, pure Salvatore Sciocca. Sto con Paolo anche l'8 dicembre. Dice l'endorsement dell'esponente del Partito dei Comunisti per la proposta del rottamatore. Ancora Mastella che segue il Cavaliere Lattanzio attacca Nero. Intanto Forza Italia organizza le truppe. Azzurri di ritorno. Patriciello e non solo. Cultura e integrazione. A Roma la ricetta di Joffredi, il consigliere di Selle, all'evento della Garbatella patrimonio archeologico unico. Dice ancora nella capitale. Protesta la FLC alla scuola il ruolo che merita. Beffa Imu. Si pagherà la mini-tassa abolita con decreto la seconda rata, ma una parte andrà versata ai comuni con aliquota top. Il governo intanto lavora sull'ipotesi rimborso per i contribuenti più sfortunati. Riscoprire un'antica storia comune arriva il presidente della Croazia. Il governatore Frattura annuncia la visita del capo di Stato ad Acquaviva San Felice e Montemitro. Le filiere in crisi e i progetti dei grandi marchi. Petra Roia dice non rinunciamo all'industria. Poi dall'edilizia al turismo l'API ha fatto il punto sul fenomeno e le opportunità di investimento. Bene, da primo piano molise ci spossiamo alla pagina che il Tempo dedica alla regione. Incubo Imu per 28 comuni, titola il Tempo, critici i sindaci indignati per l'atteggiamento del governo. In media ogni famiglia pagherà una somma tra i 71 e 101 euro. E poi la colletta alimentare raccolte 42 tonnellate di cibo per spamare 6.178 poveri. In breve da Campobasso il presidente della Croazia è in visita in regione. Isernia ha incidenti stradali in More dopo 40 giorni. Poi ruba liquore nel market e poi aggredisce i carabinieri. Una notizia di cronaca appunto che viene sempre da Isernia. E con il Tempo Molise chiudiamo la sezione dedicata alle pagine locali. Ci spostiamo ora a quelle nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Corsa per evitare la beffa Imu, titola il Corriere del Governo. Circa 200 milioni potrebbe salire la conto IVA, le pressioni dei partiti per cancellare la quota dovuta nei comuni come Milano. E poi in taglio alto c'è la cronaca. Sette morti nella fabbrica che era anche la loro casa. Strage nella comunità cinese di Prato. Un incendio nello stabilimento dove lavoravano e dormivano con le inferriate alle finestre. E dal Corriere ci spostiamo alla stampa di Torino. Anche qui si apre con la cronaca e rogo nella fabbrica Lager dei Cinesi a Prato. Una tragedia del lavoro in nero. Sette morti e due feriti gravi. Vittime intrappolate dalle inferriate. Il ministro Giovannini convoca gli ispettori delle aree a rischio. E poi anche qui troviamo la notizia relativa all'Imu. Il governo prova a bloccare la minirata d'Errio ai sindaci. Il decreto cambierà. Servono 150 milioni province di DL in aula. Dalla stampa alla Repubblica. La politica. Renzi non tiri la corda o si vota. Alfano. Nessuna paura delle urne. Letta evita scontri con il sindaco. Intervista al vicepresidente del Consiglio. Patto per un governo di un anno. Cuperlo Matteo rischia di dividere il PD. Anche qui la foto notizia. Il rogo in fabbrica. Dormitorio a Prato. Estrage. Fiamme in un'azienda gestita da cinesi. Sette vittime. Tre intossicati gravi. Dalla Repubblica al tempo di Roma. Ecco le società regionali. Rosso e mangio a soldi. Sprechi. Nel Lazio sono 20 con buchi di bilancio spaventosi. Consulenze stellari per il personale. Si buttano 280 milioni. E poi lo sport. La fotonotizia. Il solito arbitro rallenta alla Roma. Bergamo rigore negato. Quarto pari. E Juve a più tre. Dal tempo andiamo a vedere la prima del messaggero. Letta. Allarme spinte anti Unione Europea. Dice il Premier raccoglie l'invito di Visco sull'Europa ma sulle riforme. Risponderò in Parlamento. Duello Alfano Renzi. Il Vice Premier. Tu vuoi la sedia di Enrico? La replica? No. Penso solo al Paese. Il caso Imu. Governo e sindaci al tavolo. Provano a mediare il sottosegretario Legnini. Ci saranno modifiche. Ma ancora caccia a coperture per 500 milioni. Lo sport Roma ancora imbattuta ma la Juve va il campionato pari dei giallorossi. Bianconeri con tre punti di vantaggio. Da il messaggero ci spostiamo alle notizie di Economia del Sole 24 ore. Qualità della vita. Vince Trento. Napoli all'ultimo posto. Penalizzata sul lavoro e legalità. e recupero le grandi città. La classifica appunto del Sole 24 ore in apertura. La provincia autonoma diventa prima in graduatoria grazie a un tessuto economico che resiste. E dalle notizie di Economia ci spostiamo a quelle di Sport con la Gazzetta dello Sport. Fuga Juve. Roma a meno tre. Stella Laurent. I campioni piegano l'Udinese nel recupero con il terzo gol di fila del centro avanti spagnolo. Allungano sui giallorossi che a Bergamo hanno collezionato il quarto pari consecutivo. Grandi parate di Buffon. Il caso la bella festa dei bambini è stata rovinata dai cori dei grandi. Ripartenza. Milan in taglio alto. Cacà scatenato a Catania. Ma Balotelli accusa Spoli. Mi ha dato un negro di il patto tra Barbare e Galliani. Può durare fino a quattro anni. E poi il debutto di Toir. Ma la sua Inter si fa riprendere. Mazzarri furioso. Tutti da frustrare. Me compreso la peggior partita della stagione. Continuiamo con lo sport con il Corriere. Fermano la Roma e la Juve scappa. Titola il Corriere. Pari tra le polemiche per i giallorossi. Bianconeri ha più tre. Con l'Atalanta. Quarto pari consecutivo. Sotman pareggia nel finale. Garzia protesta per un Mani in area su tiro di Maicon. Era netto. Lo hanno visto tutti. Dice con l'Udinese. Sesta vittoria consecutiva. I friuliani. Bene. Ma sprecano la squadra di Conte. Passa soltanto nei minuti di recupero. Laurent di nuovo decisivo. Milan che festa con Cacà e Baloma. Poi è caos. Napoli all'esame all'Olimpico. Contro Petrovic. Giordano. Patania e Rindone. Bene. Con le notizie di sport. La nostra rassegna stampa termina qui. Io vi ricordo l'appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale alle 13.50. Vi lascio alle previsioni meteo e vi auguro una buona giornata e un buon inizio settimana. Il meteo è offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per lunedì 2 dicembre 2013. Acquazioni sparsi su Molise, Basilicata e Puglia più frequenti in serata per l'arrivo di un nuovo impulso instabile in risalita dal Golfo di Taranto. Ventilazione tesa con mari molto mossi, temperature senza particolari variazioni. Campo basso minima 6, massima 8 gradi. Isernia minima 6, massima 9 gradi. Termoli minima 12, massima 14 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero.